Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video con i rumori dei lavori perché hanno deciso di farne uno ogni 16 secondi andiamo a parlare di Maze of Millennium e di tutto quello che c'è da sapere su questo set parto dal presupposto che per me i set Maze sono veramente fantastici anche se magari in tutto il set ci potrebbe essere un po' di fuffa come è successo anche per il labirinto delle memorie però è una cosa soggettiva, mi piace particolarmente il fatto che riprendono delle carte vecchie come lo spadeccio nel fuoco il guardiano del cancello e li rifanno e parlo da Yugi Boomer prima di iniziare ragazzi mi invito a iscrivervi al nostro canale per venire sempre a giorni con il mondo di Yugi mi raccomando è importantissimo, l'escrizione ci aiuta veramente tantissimo andiamo a parlare di Maze of Millennium, ovviamente i supporti nuovi con le ristampe molto probabilmente li riconosceremo a ridosso dell'uscita perché così come è stato per il labirinto delle memorie del guardiano del cancello tutto a ridosso con gli opening ma andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere comunque abbiamo visto ieri 85 carte, Ultra, Super, Collector, Una Carter abbiamo visto le carte delle copertine qui vengono ufficializzate comunque le carte che vengono menzionate nei testi e nel pacchetto ma dato che sono tutte le carte di Animation Chronicle queste qui al 105% io credo che ci saranno tutte le altre e in questo video andremo a vedere tutte queste nuove carte così ci facciamo un'idea sbarazzina e repentina è una sorta di recappone però recappone anticipato quindi andiamo a vedere adesso al momento la prima fila abbiamo l'occhio dell'illusione eh dov'è il mago dell'illusione che si attiva questo effetto diventa più forte? eh dov'è? lo dovete stampare così perché l'ho detto io cosa fa? se controlliamo l'illusione e lo spellcast attiviamo uno dei seguenti effetti i nostri illusioni e incantatori non possono essere istrutti in battaglia in questo turno durante il turno dell'avversario targettiamo un mostro che lui controlla e gli prendiamo il controllo fino alla end phase quando un mostro dell'avversario ti gara un attacco targettiamo un mostro scoperto dell'avversario che controlla a eccezione il mostro che attacca e cambiamo l'attacco su quel mostro bellissimo bellissimo poi kaitoptera se l'avversario controlla due o più mostri scoperti non vento quei mostri non possono targettare questa carta con gli attacchi ogni effetto una volta per turno se viene non entrava in phase possiamo aggiungere una polimerizzazione deck alla mano se viene bandito possiamo evocarlo specialmente e poi aggiungere una polimerizzazione al cimitero alla mano orled saurus vuole kaitoptera più un dinosauro o un drago può attaccare diretto nel turno in cui viene evocato specialmente ogni effetto una volta per turno se questa carta viene evocata tramite fusione piazziamola a field dal deck o cimitero scoperta nel field zone durante la main phase dopo che questo effetto sia risolto possiamo evocare normalmente un dinosauro o un drago colorless eccolo qui finalmente wall e rainbow quello classico più due o più demoni allora se questa carta viene evocata tramite fusione possiamo distruggere tutti ma sia la perché l'avversario controlla l'attacco e la difesa originale di questa carta diventano il numero di materiali da fusioni per la sua evocazione per mille se gli indicate l'effetto l'attacco diventa zero una volta per turno effetto rapido possiamo targettare una carta scoperta che controlliamo scartiamo una carta e l'avversario non può targettare quella carta scoperta con gli effetti delle carte in questo turno tra l'altro è bellissimo bellissimo come poi non c'entra un cavolo con il dark world nel senso ecco l'artwork è completamente diciamo aliena molto figo aliena nel senso che è diversa arcana force 15 il demone possiamo possiamo scartare questa carta per raggiungere un light barrier dal deck o cimitero alla mano se questa carta viene evocata una lanciamo una moneta e attiviamo i seguenti effetti in base a testa o croce testa quando c'è un attacco dichiarato che coinvolge questa carta possiamo targettare un mostro sul terreno lo spacchiamo e se lo facciamo infliggiamo 500 danni danni al controllore croce e quando c'è un attacco che coinvolge questa carta spacchiamo tutti i mostri sul terreno ma lo sai quasi quasi pure croce non è mai bonfire ci aggiunge un piro dal deck alla mano di livello 4 si 4 inferiore ruota da combattimento pilastro sciocca pietra di cabrera triangolo O totem rilascio terrestre me li ha tradotti non mi dispiace un tuner più uno più mostro in un tuner la prima volta che questa carta saprà essere distrutta da un effetto dell'avversario ogni turno non viene distrutta una volta durante la battle phase dell'avversario effettivamente possiamo scartare una carta questa carta coragna uguale alla metà dell'attacco di tutti gli altri mostri scoperti che attualmente controlliamo poi piazziamo un counter su questa carta e in più i mostri dell'avversario non posso targettare mostri per attacchi in questi turno ad eccezione di questo qui se questa carta con un counter viene distrutta in battaglia spacchiamo tutti i mostri e controlliamo eh grazie però non c'entra potrebbe essere carino non c'entra niente però dato che me li spacchi dico non c'entra a sciocca pillar se questa carta viene evocata possiamo aggiungere un equipaggiamento dal deck alla mano poi se questa carta è in posizione d'attacco cambia la posizione a poi possiamo cambiare la posizione d'attacco è in posizione di difesa lo dobbiamo fare non è che possiamo ogni effetto una volta per turno se questa carta viene distrutta in battaglia dall'effetto prendiamo 2000 di danno grazie vabbè se si giocano così caprera stone se viene evocata aggiungiamo un triangolo un triangolo 0 dal deck alla mano se poi se questa carta è in posizione d'attacco la mettiamo in difesa se viene distrutta prendiamo 1000 triangolo e vi levate se controlliamo se controlliamo un bestia cristallo pilastro ascioca e una pietra cabrena distruggi tutte le carte sul terreno mi cambia il linguaggio come gli pare inoltre in questo turno il tuo avversario subisce qualsiasi danno da effetto che avresti dovuto subire tu poi un bandiere versata al cimitero scegli un bestia un testo cristallo una pilastro ascioca una pietra cabrena nel tuo cimitero mischia del deck e poi pesca 3 carte carta illegale poi l'avversario non può targettare mosti roccia con attacco originale 0 con gli effetti delle carte una volta per attacco quando l'avversario dichiara un attacco possiamo negare quell'attacco se lo facciamo facciamo un counter su questa carta se questa carta ne ha 3 la mandiamo al cimitero se abbiamo 3 o più mosti roccia con 0 di attacco con nomi differenti al cimitero possiamo mandire questa carta al graveyard ogni effetto che ci fa prendere che fa prendere danno in questo turno viene raddoppiato quindi fai otk così airbound release quando mostri livello 6 o superiore viene evocato tributiamo mostri livello 10 airbound distruggiamo qualsiasi mostro dell'avversario controlla quanto possibile se lo facciamo facciamo danno uguale agli attacchi distrutti all'attacco totale originale dei mostri distrutti pure questa ti fa fare un burn incredibile abbiamo re delle infezioni delta fotonica exi scorazzato annunciatore di suoneria gli airbound poi alla fine sono tante carte gremlin rs sincrofusione lama della fenice poi abbiamo la drastic draw che praticamente la drastic draw è una è una carta della santità fonda più o meno due mostri livello 8 una volta per turno durante la stand by stacchiamo un materiale possiamo attaccare una carta dal cimitero dell'avversario a questa carta come materiale una volta per turno se questa carta viene evocata tramite exis possiamo guardare l'extra deck dell'avversario gli mandiamo una carta al cimitero possiamo staccare un materiale da questa carta per targettare una carta che l'avversario controlla e lo spacchiamo poi se abbiamo distrutto un mostro gli infliggiamo danno pari alla metà dell'attacco di quando era sul terreno e per me è illegale il fatto che ogni volta vai a guardare l'extra dell'oppo se questa carta viene evocata normalmente possiamo specialare un foto delta wing dalla mano deck in difesa poi possiamo evocare specialmente soltanto mostri luce mentre controgliamo un altro foto delta wing l'avversario non può dichiarare un attacco vabbè ci stalla armored exis targettiamo un mostro scoperto e controgliamo un exis nel cimitero equipaggiamo quel mostro dal cimitero all'altro mostro sul terreno e la carta equipaggiamento guadagna i seguenti effetti l'attacco del mostro equipaggiato diventa l'attacco di questa carta se il mostro del mostro equipaggiato diventa l'attributo di questa carta se il mostro equipaggiato attacca alla fine del damage step possiamo mandare questa carta al cimitero e quel mostro può fare un secondo attacco ring annuncer viene sempre trattata come una bottling boxer specialiamo un battling boxer dalla mano poi spacchiamo magie e trappole sul terreno fino al numero di mostri exis e controlliamo poi airbound prisoner ground keeper se viene evocata possiamo evocare specialmente mostri allo 5 inferiore airbound al deck o cimitero ad eccezione di lui poi possiamo evocare specialmente all'extra deck soltanto fusioni e sincro ogni effetto una volta per turno gli airbound che controlliamo non può essere strutturati in battaglia di effetti nella carta mentre c'è una carta nella zona terreno poi airbound prize onestro sweeper se c'è una carta nella field possiamo evocare specialmente questa carta dalla mano possiamo evocarlo solo una volta per turno in questo modo possiamo scattare questa carta per aggiungere mostri allo 3 o inferiore demon e tuner dal deck alla mano poi possiamo evocare specialmente l'extra deck solo fusioni e sincro questo si giocava ovviamente anche in drago cremisi airbound prison air line walker se questa drago cremisi re cremisi arcinoma drago rosso se viene evocato aggiungiamo un airbound prison un harmonic synchro fusion dal deck o cimitero alla mano se controlliamo mostri di livello 6 o superiore airbound possiamo bandire questa carta al cimitero per targettare un mostro con effetto nell'avversario evochiamo specialmente dall'ex evocato specialmente dall'extra deck lo mischiamo lo mischiamo nel mazzo poi l'avversario può evocare specialmente un mostro con lo stesso nome dall'ex a deck ora voglio capire se io gli metto se io vabbè lo lasciamo fare aspettate un attimo perché se io gli mischio un mostro che non può essere evocato che può essere solo evocato tramite un'evocazione fusione o synchro parte lo stesso l'effetto non lo so poi lo vedremo Geocrack Kraken non riesco più a parlare se viene evocata specialmente possiamo aggiungere una magia terreno dal deck o cimitero la mano se uno o più mostri vengono evocati specialmente dall'extra deck dell'avversario eccetto durante il damage possiamo distruggere quanti mostri dell'avversario possibili che sono evocati specialmente in questo turno e se lo facciamo infligiamo 800 di danno per ogni mostro distrutto da questo effetto ogni effetto una volta per turno Geocrasha un airbound fusion più un airbound synchro deve prima essere evocato tramite fusione all'inizio del damage step se questa carta combatte con un mostro cambiamo l'attacco di quel mostro a zero se uno più mostri dell'avversario vengono distrutti in battaglia dall'effetto di una carta possiamo distruggere tutte le carte che l'avversario controlla ogni effetto una volta per turno se questa carta scoperta sotto il controllo il proprietario lascia il terreno a causa dell'avversario possiamo evocare specialmente un airbound dall'effetto è una carta all'avversario possiamo evocare specialmente un airbound al deck o extra deck Geogremlin dark tuner più uno più musi non tuner durante il mine face effetto rapido possiamo targettare un mostro scoperto che l'avversario controlla l'avversario sceglie uno dei seguenti effetti e lo applica lo spacca oppure guadagniamo life points fare l'attacco del mostro durante la battle face effetto rapido possiamo evocare tramite fusione un airbound dall'extra deck volendo i materiali da fusione menzionati dalla mano terreno e o cimitero Geogrifon effetto rapido possiamo evocare specialmente un airbound dal cimitero in posizione di difesa di eccessione di lui poi possiamo evocare specialmente dall'extra deck solo fusione o sincro se questa carta sotto il controllo il proprietario viene distrutta da una carta dell'avversario possiamo distruggere una carta sul terreno e infliggere 300 unità nell'avversario per ogni airbound con nome differente che controlliamo nel cimitero airbound prize zone la field quando questa carta viene attivata possiamo targettare un mostro con effetto all'avversario questa carta guadagna il seguente effetto mentre questa carta è una zona terreno neghiamo gli effetti di quel mostro durante la main phase possiamo evocare un airbound in più se questa carta sotto controllo il proprietario viene distrutta dall'effetto di una carta all'avversario abbiamo un airbound sul terreno oppure nel cimitero dimeggiamo i life points dell'avversario e se lo facciamo neghiamo ogni effetto delle carte che attualmente controllo fino alla fine del turno questa carta non ha senso perché se io gli dimeggio i life points lo chiudo un tempo zero non mi ricordavo prison così forte harmonic synchro fusion mandiamo due mostri scoperte e controlliamo al cimitero un tunnel e non un tunnel ed evochiamo specialmente un fusione e un synchro il synchro deve averci lo stesso livello deve essere un'evocazione synchro e l'extra deck che possono essere evocati tramite fusione e synchro utilizzando i due mostri mandati al cimitero come materiali non possiamo evocare specialmente mostri all'extra deck nel turno in cui attiviamo questa carta ad eccezione di mostri fusione e synchro phoenix gear blade equipaggiamo un guerriero fuoco guadagna 300 se il mostro equipaggiato attacca all'end del damage possiamo mandare questa carta al cimitero e ogni mostro guerriero e fuoco può fare un secondo attacco durante questa battle phase questa carta viene mandata al cimitero bandita per attivare l'effetto di un mostro possiamo aggiungere drastic drop bandiamo tutti i mostri e controlliamo minimo 2 peschiamo 3 possiamo evocare soltanto cybers nel turno in cui attiviamo questa carta però non è male transaction rollback paghiamo metà dell'effpoint targettiamo la carta trappola normale nel cimitero dell'avversario ad eccezione di lei l'effetto di questa carta diventa l'effetto della carta trappola normale che si attiva quando viene attivata possiamo bandire questa carta al cimitero e pagare metà nei nostri life points targettare una carta trappola normale nel cimitero a eccezione di rollback questo effetto diventa l'effetto di quella trappola mentre viene attivata code hack cyber slink non possono essere distrutti dagli effetti legati all'avversario una volta avverto l'un altro battle step se un mostro combatte con un mostro all'avversario possiamo cambiare l'attacco di quel mostro a zero fino all'end phase se lo facciamo nessun mostro può essere distrutto da quella battaglia nessun giocatore prende danno dalla battaglia dalla battaglia quando l'avversario attiva una carta ha un effetto durante il damage mentre lo togliamo un co-talker che è attaccante possiamo bandire questa data al cimitero per negare l'attivazione se facciamo il mostro guadagna 700 allora l'airbound diventerà un mazzo veramente grosso queste sono delle ristampe ma io non credo che verranno introdotte nel set poi chissà magari possono anche essere inserite questo non lo so non credo però è da vedere comunque airbound è molto più forte di quanto mi ricordassi airbound è veramente fortissimo detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente noi come sempre ci vediamo in un prossimo video e un saluto a tutti a tutti